io quando sono sul palco quando sono in una trasmissione televisiva comunque quando sto facendo il mio lavoro sono proprio felice di farlo questa cosa noi ce la dimentichiamo ogni tanto cioè chi fa il mio lavoro non si rende conto di quanto amore ci sia intorno a te e di quanta passione e di quante cose belle possano nascere da quell'amore uno si concentra sugli haters sulla persona per strada che magari ti dice quella cosa sgradevole perché tendiamo sempre a concentrarci sulla cosa negativa e poi leggi questi messaggi io nel mio caso ho letto questi messaggi e ho fatto amicizia con un sacco di gente da bambina guardando le notti stellate fuori dalla finestra aveva visto persino l'ufo non è diventata una meteora alessia marcuzzi che sordì in tv nel 1991 e ancora continua a tenere compagnia a milioni di italiani simpatica anticonformista leggera senza essere superficiale in questa intervista alessia marcuzzi si racconta dall'inizio e scopre di essere stata parole sue fortunatissima io sono marco pagani e questo è dicono di te un podcast prodotto da cora media e tender stories per non perdere l'episodio di questa serie clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina e se ti va metti 5 stelline su spotify a casa tua si rideva molto no molto molto nonostante i tuoi genitori non potessero essere più diversi tra loro lo hai raccontato uno poeta sognatore libero anticonformista con quella follia detto una volta che hanno solo quelli nati in città come trieste in cui la bora la bora a roma la bora vuol dire un'altra cosa la bora cosa vuol dire capona sei capona sei una gran bora è vero è vero però la bora si dicono no che questo vento particolare di trieste sia un po quello che che li rende sempre frizzantini è una cosa patagonica quasi quando soffia soffia veramente soffia veramente invece tua madre è nata nel foggiano più diciamo apparentemente severa no parentemente perché apparentemente non era così severa neanche lei perché no sono stati dei genitori severi però appunto papà triestino con origini scozzesi e questo ci tengo a dirlo perché anche lì ti fa capire un po la follia di papà e mamma apparentemente più più severa e anche un po più come posso dirti rigorosa no nel modo di pensare invece poi molto molto libera di testa come papà apparentemente perché con me sono stati dei genitori molto severi ma per gli altri quindi tutti i miei amici adesso e i loro amici quando ero più piccola perché io li spiavo dalle scale di casa facevano feste su feste loro in continuazione loro sono sempre stati molto invece gioiosi simpatici divertenti quindi grandi risate grandi feste grandi comunità di amici a casa che è una cosa che ho ancora tutti tuttora io perché casa mia è aperta entrano gli amici quando vogliono senti ma come si incontrano fu già nella tristina perché mamma si è trasferita molto piccola a roma mio nonno che non ho mai conosciuto era un medico e quindi da questo paesino che si chiama roseto valfortore ci tengo a nominarlo perché ormai io sono una specie di simbolo per roseto valfortore ed è stato nominato uno dei borghi più belli d'italia da poco quindi il sindaco adesso se mi ascolta sarà molto contento di questa cosa e quindi mamma si è trasferita con un nonno che aveva due anni e quindi giovane proprio piccolissima papà da trieste con mio nonno diciamo sedicenne prima era andato a milano poi era andato a napoli ma comunque aveva vissuto perché mio nonno faceva il rappresentante quindi aveva vissuto un po di città italiane e poi l'ultimo l'ultima città è stata roma e quindi si sono conosciuto ad una festa credo nel quartiere monteverde vecchio perché mamma viveva lì. Senata nel novembre del 72 che ti ricordi di questi anni di primissima infanzia? Adesso ti dico una cosa che ti fa ridere visto che abbiamo cominciato con le risate ma mi è venuta in mente adesso mentre me l'hai chiesto e gli ufo? Tu hai visto gli ufo cioè tarnettuno una notte tu hai visto gli ufo e non sei stata creduta per anni. Non sono stata creduta ma sai perché ti dico che ci ho pensato adesso perché quando mi hai detto che ti ricordi degli anni di quegli anni lì perché io ho incontrato un ufologo al Maurizio Costanzo Show tra l'altro e lui era stato invitato per parlare di questi avvistamenti. I più grandi avvistamenti di ufo sono stati sulla costiera laziale quindi fra nettuno anzio così fra gli anni 72 e gli anni 78. Cioè tu raccontiamolo bene tu sei davanti a una finestra a un certo punto vedi proprio un disco volante avvicinarsi. Sì così però hai raccontato io ero troppo piccola per essere creduta. La bisnonna troppo anziana quindi non ci hanno creduto molto ma in realtà è stato proprio di fronte alla finestra ad un certo punto abbiamo visto questo mi fa ridere mentre lo spiego ma ce l'ho chiaramente questa questa cosa quindi non l'ho dimenticata e come potrei un disco volante enorme arrivare davanti alla finestra soffermarsi per qualche secondo per poi ripartire e questo tuffologo mi ha detto che avevo ragione. Quando è arrivato qualcun altro che non fossi tuo o la tua bisnonna voi avete detto abbiamo visto gli ufo abbiamo visto gli ufo. Questa non me la ricordo nel dettaglio perché ero piccola però sì avevo avuto 4-5 anni e mamma ogni tanto me lo racconta e loro mi prendono un po' in giro su questa cosa perché quando mi è capitato recentemente anche una persona mi ha conosciuto mi ha detto sei un po' pazza ma te l'hanno rapito gli ufo forse sarei stata rapita e poi sei tornata giù. Tu che rapporto hai con la memoria? Pessimo. Pensi che sia una rimozione volontaria oppure proprio le cose ti passano? Non lo so ho una memoria visiva abbastanza buona però anche a scuola sono sempre andata molto bene perché avevo questa memoria quella io leggo una cosa me la ricordo subito per un giorno il giorno dopo però non non ricordo quasi niente però perfetta per la scuola per altre cose meno direi forse le cose importanti quelle sono anche per esempio mi dispiace anche un film che io sono un amante del cinema comunque in generale anche un libro poi ho difficoltà a raccontarti tutto il film tutti i passaggi tutto il libro perché non ho questa memoria così è una memoria di impressione capito e poi dopo quella invece consistente viene meno. Però ti eri ricordata per esempio perfettamente la trama di Oltre il Giardino di Ashby. Però non me lo ricordo nei dettagli. No però avevi raccontato che ti interessava letteralmente il tema di qualcuno che attraverso la tv riesce a raggiungere i propri sogni. In quel caso il giardiniere semi-analfabeta che gioca sull'equivoco quando lo investono in macchina lui dice come ti chiami e lui dice chance giardiniere e sembra che il giardiniere sia il suo cognome poi finisce a casa di un amico del presidente degli Stati Uniti. Però vedi tutti i ricordi particolari io mi ricordo la trama. Vorrei essere così bravo lo riletti prima di intervistarti. Allora volevi impressionare la memoria dell'impressione. No vabbè però ecco magari io non so ieri se avessi rivisto ieri Oltre il Giardino probabilmente oggi non mi sarei ricordata il nome del giardiniere capito? Quindi ci sono dei piccoli particolari che poi mi sfuggono quindi ti so raccontare la trama del film e poi dopo nel particolare mi sfugge quella cosa che però è fondamentale. Com'era Casal Palocco? Casal Palocco è stato il mio posto del cuore. Io vivevo sugli alberi e mi arrampico spesso anche adesso. Come il barone rampante? Come il barone rampante di Calvino. Mi chiamavano così. A casa mi chiamavano così il barone rampante. Sì innanzitutto ero molto maschiaccio perché mio papà voleva un maschio quindi mi ha cresciuto un po' come se fossi un maschio. Mi vestivo anche da maschio e con i miei amici giocavo con i soldatini, i robò, i gicrobò d'acciaio, sai tutte le cose insomma molto maschili. Molto maschili. Quindi poco con le barbie, pochissimo. E poi avevo questa passione di arrampicarmi sugli alberi quindi ero soprannominata il barone rampante. Una cosa è rischiosissima. Molto più rischiato di tornare nella discoteca in condizioni precarie. Cosa che invece non ho mai fatto perché dall'altra parte io sono sempre stata molto nelle regole proprio perché i miei genitori nonostante fossero così socievoli, avessero tanti amici poi in realtà erano molto severi. Quindi ho la discoteca quella del pomeriggio che tante mie amiche hanno vissuto. Si andava nelle discoteche anche qui a Roma dove c'era Lorenzo Cherubini-Giovanotti che metteva la musica. Io invece non l'ho. Qua dietro. Io non l'ho fatta così... forse veramente ci sarò andato un paio di volte in discoteca di pomeriggio perché i miei erano molto rigidi, molto severi. Però hai ragione tu che era molto più rischioso di arrampicarsi sugli alberi. Molto più rischioso. Poi voglio dire Casar Palocco per chi non la conosce, magari ci ascolta Treviso è una sorta di complesso residenziale molto più vicino al mare di Roma, vicino ad Ostia ed è in qualche modo una città nella città. Cioè è un appendice dell'ultimo lembo della città a sud che è l'Eur e oltre c'è Casar Palocco. Quindi per un adolescente vivere a Casar Palocco per quanto ci sia il verde, per quanto ci siano le case grandi è come vivere altrove, raggiungere Roma. Sì, anche per un fidanzato. Ah ma pure per un fidanzato, certo, certo. È complicato. Che chi ti viene a prendere a Casar Palocco e ti riporta? Qualcuno ti ama, ti deve amare veramente. Quindi mi sono dovuta spostare ad un certo punto. E come ti spostavi? Prendevi i motorini, i mezzi? L'autobus. L'autobus. Ogni tanto mi accompagnava qualcuno che viveva a Casar Palocco e che quindi andava in centro e io mi accodavo. Però devo dire che non ho mai sentito forse così tanto poi la mancanza di una vita sociale nel centro di Roma perché comunque a Casar Palocco per me era molto divertente e tra l'altro io sono poco mondana. Quindi anche tutta questa vita. Lo sei sempre stata perché ti affatica la mondanità? No, perché mi diverte stare con i miei amici stretti e poi io ero proprio una ragazzina, io ero un po' nerd, un po' andavo in giro con la mia amica Marella che è tuttora la mia migliore amica che ho incontrato alla scuola di danza di Casar Palocco e andavo in giro con un piccolo registratore a chiedere alle famiglie in giro per Casar Palocco svegliando anche delle persone che dormivano, poveracci, chiedendo cosa ne pensassero della festa della primavera. Veramente. Cioè mi è venuto in mente in questo momento e pensa alla follia di una ragazzina di 16 anni che invece di andare a ballare in discoteca andava a fare le interviste su una cosa poi assolutamente banale. Però tu hai detto che per esempio quando studiavi dalle sue ore di Nevers all'Eur eri una commissione di esibizionismo e timidezza, sentivi che l'attenzione degli altri era attratta da quello che dicevi, da quello che facevi, da come ti muovevi, però al tempo stesso, quindi questo diciamo non ti dispiaceva, però al tempo stesso poi ti schermivi e ritornavi nel il mio gruppetto. Nel tuo gruppetto. È ancora così. È ancora così. Sì. È ancora così, nel senso, fa parte del mio lavoro, sono una persona egocentrica, sicuramente mi piace stare al centro dell'attenzione, lo sono sempre stata, perché io mi ricordo che a tre anni organizzavo tutte le recite di Natale in famiglia, in continuazione, cioè volevo recitare, il mio sogno era quello di fare l'attrice e mio padre ci pagava per non farle queste recite, cioè io volevo i soldini della recita e lui ci pagava e diceva quest'anno per favore tu e le tue cugine potete anche evitarci questo strazio, quindi avevo questa voglia di fare spettacolo, perché è proprio insito nel mio carattere quando sono con gli amici, io facevo le imitazioni a scuola alle sore di Nevers, facevo le imitazioni di tutti i professori, quindi arrivavano tutti da tutte le classi per vedermi a ricreazione che imitavo tutti i professori, quindi avevo questa voglia, però poi nel frattempo io sto bene nella mia comfort zone, quindi con le persone a cui voglio bene e stare in ambienti dove c'è tantissima gente, mi fa piacere, però nello stesso tempo la vivo come… cioè quando è che torno a casa e sto con i miei, capito? Deve essere stato complicato essere sotto le luci dei riflettori per un trentennio ed avere questa natura invece tutto sommato felice di stare nel cerchio di chi si conosce, perché poi hai avuto a che fare con tantissima gente che non ti conosceva o che presumeva chi tu fossi, no? La tv da questo punto di vista può essere molto faticosa. Sì, però guarda, per me non è mai stato così complicato, perché per me è proprio una scissione e quindi quando sono in mezzo alla gente e faccio il mio lavoro, a parte che il pubblico mi dà così tanto, che questa cosa è come un give back, cioè quando ricevi così tanto amore ti viene da darlo, no? Allora è un rapporto talmente meraviglioso quello che si instaura e non puoi denigrarlo. C'è una frase bellissima nell'ultimo film di Sorrentino che devo ancora uscire, che si intitola Partenope, c'è questa ragazza che vuole fare l'attrice e allora va da un insegnante di teatro che la guarda, la soppesa, la osserva e poi dice, sai che c'è, che tu non hai la gioia mentre dici le cose, mentre ti esprimi, mentre ti muovi e questa cosa, la telecamera dice proprio così, non te la perdona. E invece evidentemente a te te l'ha perdonata perché tu comunque eri felice di fare le cose che facevi, no? Io quando sono sul palco, quando sono in una trasmissione televisiva, o comunque quando sto facendo il mio lavoro, sono proprio felice di farlo. Guarda, questa cosa l'ho capita anche recentemente perché Fiorello, per sbaglio, ha dato il mio numero di telefono in onda, nella sua trasmissione. Questo telefono io me lo sono tenuto, ho dovuto cambiare il numero ovviamente perché poi era un continuo di messaggi, però io ogni tanto vado a rileggermeli questi messaggi perché c'è talmente tanto amore lì dentro e questa cosa noi ce la dimentichiamo ogni tanto. Cioè chi fa il mio lavoro non si rende conto di quanto amore ci sia intorno a te e di quanta passione e di quante cose belle possano nascere da quell'amore e questa cosa l'ho proprio capita davvero bene vedendo questo telefono perché uno si concentra sugli haters sulla persona per strada che magari ti dice quella cosa sgradevole perché tendiamo sempre a concentrarci sulla cosa negativa. E poi leggi questi messaggi, io nel mio caso ho letto questi messaggi e ho fatto amicizia con un sacco di gente. Sempre perché c'è questo aspetto, sì, sono con il mio gruppo di amici ma poi invece voglio… Come è successo che Fiorello desse il tuo uomo? Perché ha inquadrato il telefono di Biggio, Biggio è un mio parente tra l'altro perché è sposato con mia cugina Fabrizio, come se fosse mia sorella che noi siamo cresciute insieme a casa al palocco con Valentina e quindi lui ha mostrato il telefono, stava inquadrando me e c'era il numero. Un secondo dopo è un inferno. Un secondo dopo, niente, un inferno. Però ti devo dire che da questo inferno invece è successo, è stata una specie di, guarda, una specie di visione, non so come spiegartela perché è come se fosse un pezzo di un film quel telefono là. Ho conosciuto un sacco di gente. E ancora vive il telefono. E ancora vive e io con cui ho dei rapporti, cioè delle persone con cui ho dei rapporti. Un gruppo di un addio, che io avevo pensato fosse un gruppo di un matrimonio per cui ho cominciato a chattare, poi invece ho scoperto che questi mi volevano invitare al loro addio ad Alicante, quindi gli ho mandato proprio una nota vocale e gli ho detto, ma a me sei preso per una escort, ma scusate. E da lì siamo diventati amici. Una bambina che si chiama Adele, un'altra ragazza che si chiama Rachele. Comunque è un gruppo che vive e mi piace conoscere la gente comune, normale. Quindi forse, adesso che tu mi stai facendo questa seduta psicologica, perché la vorrei chiamare così, ti direi che non ho un brutto rapporto con il mondo del mio lavoro. Anzi, però mi piacciono di più le persone comuni, forse le persone dello spettacolo, ma non perché ci sia qualcosa con le persone dello spettacolo, è che magari sono abituata a vedere persone che fanno il mio lavoro e quindi o mi rintano a casa mia con i miei amici, oppure mi piace conoscere la gente normale. Però mi hai dato la risposta alla domanda che ti avrei voluto fare, cioè qual è il segreto poi perché uno sopravvive, ce la fa e ancora si diverte a fare questa cosa nonostante la faccia da 30 anni e se capita il tuo telefono nell'Ether e ti scrivono in 500, perché forse ti vedono come loro, in qualche modo. Mi piacerebbe che fosse così, perché credo di non aver mai detto di no ad una persona che mi ha fermato per strada per chiedermi una foto o un autografo. Penso che veramente possiamo fare una specie di test, di statistica. Proprio io sono grata al pubblico, quindi in generale per me le persone comuni, quelle che mi seguono sono molto più importanti di tutto il resto, oltre la mia famiglia e i miei amici ovviamente. Quindi la mondanità è legata a quello, cioè la mondanità per me se devo andare a fare una cosa o una sorpresa in un matrimonio o una sorpresa in un gruppo di persone che non conosco io, la preferisco mille volte ad una prima di un film dove so che poi ci sono tutti i giornalisti, i fotografi e tutto che devo fare magari, sai, un po' devi fare quella che sta un po' precisetta, attenta anche a tutto quello che dice. Pur non essendo Alessia Marcuzzi sono d'accordo con te, completamente d'accordo con te. Senti a proposito di dettagli, come quello appunto di non dimenticare di farsi una foto con chi te la chiede, il primo programma si chiamava Attenti al dettaglio, Attenti al dettaglio. Occhio al dettaglio, ora ho una memoria tremenda, quindi se mi chiedi gli anni. Attenti al dettaglio, vedi io pensavo occhio al dettaglio. Non c'è una traccia, nonostante internet si dica che appunto non dimentico nulla della trasmissione, cioè si dice solo che tu l'hai fatta, non ci sono video, non ci sono informazioni, quindi queste informazioni le chiedo a te, tu hai 19 anni e ti ritrovi catapultato in tv, che ti ricordi di quella cosa lì? Beh, allora innanzitutto devi pensare che io ho cominciato la scuola prestissimo, quattro anni e mezzo, perché forse te l'avevo già detto in un'intervista, mia madre mi ha trovato che leggevo Il Topolino a quattro anni, da sola così, e quindi sono andata a scuola molto presto. Hai parlato del genio per questo? Sì, purtroppo poi però, e mi ha messo a scuola presto perché ho detto che dobbiamo fare, mi annoiavo poi a casa a un certo punto. Ho finito scuola molto presto, a 16 anni e mezzo, il liceo, e poi sono andata alla Sapienza a fare discipline dello spettacolo, lettere con indirizzo discipline dello spettacolo. E adesso ti racconto questo dettaglio, a proposito di attenti al dettaglio, che ti farà ridere, perché siccome arrivavo dalle suore di Never, questa scuola solo femminile di suore, alla Sapienza, e tu devi arrivare alla Sapienza che sei una persona che un po' ha vissuto, diciamo, il mondo. Io a 16 anni e mezzo sono arrivata, quindi molto giovane all'università, e ho detto forse, entrata da sola così, c'era un gruppo di persone che stavano lì in mezzo alla piazza, quando si entra, ho detto forse bisogna stare qua in mezzo. E mi sono ritrovata, credo, sul messaggero da qualche parte, erano le pantere che occupavano l'università. E io sono stata tutta la mattina... A un passo dagli scontri. A un passo dagli scontri, però vestita con la camicetta. perché ero piccola, perché non ero pronta, e il mio primo film è stato La Corazzata Potionchi. Tu l'hai visto veramente, quel film a cui... Mi sono addormentata, e ho chiesto al mio vicino di prendere appunti. Ero tanto giovane, avevo voglia di fare spettacolo da quando avevo tre anni, ho detto vabbè, il primo giorno disciplina dello spettacolo io l'ho fatto, ho provato, in effetti è in tema con quello che volevo fare. Dopo quell'episodio all'università non mi hanno più visto praticamente. No, questo per dirti che ho cominciato quindi a fare questo lavoro che ero veramente tanto giovane, ma avevo precorso i tempi sullo studio, perché poi in realtà anche se l'università non l'ho fatta, forse il liceo io l'ho finito veramente tanto presto e non avevo magari la testa per concentrarmi su altre cose, quindi... Perché l'università è veramente il primo momento in cui ti ritrovi da sola, non ho moltitudine, quella cosa lì può spaventare o prima... E non avendo neanche avuto la possibilità di fare una vita sociale così, stando a casa al palocco fondamentalmente fino a quell'età è stato un po' un trauma, ma da quando più o meno avevo 16 anni, io facevo provini per pubblicità, per trasmissioni televisive, quindi mia mamma mi accompagnava quando finivo scuola, mi aspettava sotto al portone del posto dove facevo il provino, quindi io questa necessità di stare nel mondo dello spettacolo ce l'avevo già da piccolina, comunque da quell'età lì, da adolescente... Però per esempio non hai quel tipo di genitore con il metaforico randello dietro la schiena, pronto a dartelo solo... Quando tu fai il primo calendario senza veli, tuo padre ti dice sei una bellezza risarmante, che è la frase che forse chiunque si vorrebbe sentire dire a prescindere, ma... Sì, no, non sono mai stati giudicanti, non mi ero mai costretto a fare nulla, cioè volevano che io studiassi, poi quando non ho capito che la mia esigenza era quella di provare a seguire i miei sogni, li hanno accompagnati e devo dire che li ringrazio per questo, perché è importantissimo, è vero che studiare è fondamentale, però insomma i miei studi principali li avevo fatti, poi mi è andata così bene perché a 17 anni poi in uno di questi fatidici provini ho avuto una trasmissione, prima di occhio al dettaglio forse, arrivano i mostri, una trasmissione un po' recitata, tra l'altro con vari attori, per i bambini, una trasmissione per i bambini e poi forse c'è stato, ma non mi ricordo niente perché ho la memoria pessima, quindi non so se c'è stato prima occhio al dettaglio o poi arrivano i mostri. In realtà c'è stato prima occhio al dettaglio e poi amici mostri, amici mostri con i costumi fatti da Sergio Stivaletti, che era il grande Deus Ex Machina di tutte le visioni di Dario per cento, quindi per dire quanto la tv era straordinaria anche 35 anni fa ho rivisto una serie tutta ambientata italiana sul Rai 2, ambientata a Venezia, fatta da ragazzini sconosciuti, direttore della fotografia Dante Spinotti, poi direttore di LA Confidential e di altri film enormi, musica di pieno donaggio, cioè voglio dire la televisione. La televisione, bravo. La televisione di… Sì, era un programma per i bambini, ma molto sofisticato per essere un programma per i bambini perché aveva Sergio Stivaletti e tantissimi attori di teatro, Lini Salerno, ma poi c'erano tanti attori bravissimi di teatro che lavoravano con me ed è stata quindi a questo punto la seconda esperienza. Ciò lo raccontava Benedetta Porcoro qualche settimana fa, se tu inizi a lavorare presto in qualche modo, anche se a casa tua non c'era un'accademia militare, tu ti devi guarnire delle stesse regole che ha il soldato, cioè a quel punto non puoi più giocare con un calciatore che inizia a 14 anni, della propria carriera, eccetera. Senti che un pezzo di post-adolescenza è stato rapito dall'inseguimento dei provini, dalla fortuna di essere stati presi, eccetera, eccetera? Se ti devo dire no, perché era davvero quello che volevo fare e quindi Benedetta ha cominciato tanto presto. Anzi, molto prima di me, a 13 anni. A 13 anni. Secondo me quell'età lì pre-adolescenziale è veramente molto delicata. Penso a mia figlia che ha 13 anni, che vuole fare l'attrice e che è davvero ancora piccola. Forse se la penso catapultata nel mondo del cinema o dello spettacolo adesso mi viene un pochino l'ansia. Quando te l'ha detto tua figlia mia che voleva fare l'attrice? Me l'ha detto... ormai sono 10 anni che me lo dice da quando a tre anni, perché io devi sapere che costringo i miei figli a vedere la notte degli Oscar, anche Tommaso, tutti gli anni e tengo tutta la casa sveglia e piango tutta la notte, fino alle 5 di mattina. Quindi loro non ne possono più. Tommaso ormai ride. E mia ad un certo punto mi ha detto quando ho cominciato ad essere un po' più grandi, mi ha detto io l'Oscar lo prenderò per te, così non ci rompi più le scatte. Ma tu a Tommaso l'hai detto che avresti potuto avere una grande carriera americana portata da Harvey Keitel. Certo, certo. Gli ho detto però amore, poi dopo mamma ha incontrato papà e quindi alla fine... Beh, insomma l'hai fatto per loro in qualche modo, l'hai fatto per quella criteriata. E sono felicissima ovviamente di quello che è successo, però io dico mamma è un'attrice mancata, d'altronde Tommy potevo prendere l'Oscar molto facilmente, io capito. Beh comunque tu hai lavorato con David Bowie, con Harvey Keitel sul set di Giovanni Veronesi, che ci ha raccontato proprio qui di aver firmato delle finte copie dei dischi David Bowie, perché Luca non era così felice, insomma, di prestarsi a firmare dei dischi. No, ma soprattutto la gente lo aspettava da quattro giorni prima nella Garfagnana, cioè dormivano nei sacchiappello per vederlo, ovviamente, come eravamo tutti in fibrillazione anche io. Io dovevo fare la fidanzata, vabbè, allora la maîtresse di questo bordello, quindi ho baciato Harvey Keitel e poi in realtà sono stata violentata e uccisa da David Bowie, quindi non è una cosa da poco. Ma per niente, per niente. Però io ero spaventata sul serio. Beh, molto inquietante. Perché lui comunque gentilissimo, carino con tutti, però ti metteva molta soggezione, no? Anche per quello che era. È uscito un bellissimo documentario su di lui l'anno scorso al cinema ed era fantastico perché il documentario è fatto solo di parole di Bowie, quindi non c'è mai nessuna interpolazione, nessun intervento degli altri. Quindi è Bowie che si racconta all'inizio e alla fine e alla fine ti dice una cosa straordinaria, ti dice, ma senti, tutti hanno dato appunto letture psicoanalitiche di costume, di rivoluzione in quello che io facevo. Io ero e sono stato sempre solo un guitto. Cioè mi dicevano, fai questa cosa e io la facevo. Ed è fantastico perché secondo me questo ha molto a che fare con quello che noi proiettiamo sugli altri. Per questo ti chiedo, al di là del divertimento e del fatto che trovo apprezzabili di sentirsi fortunati ad aver fatto quello che hai fatto, quanto questa cosa in qualche modo comunque ti è costata? Cioè l'idea che gli altri proiettassero su di te la loro idea, no? Che è il destino degli attori poi alla fine, anche dei registi se vuoi. Sì, degli attori poi soprattutto perché loro impersonano dei ruoli, no? E quindi uno ha come quel personaggio rimane dentro di te e le persone che ti incontrano per strada certe volte non guardano la persona e l'essere, ma guardano e hanno l'immaginario di quel personaggio. Per quanto mi riguarda invece io sono quello che sono. Cioè diciamo che secondo me aveva ragione. Chi è che l'ha detto che mi sono già dimenticata? Era parteno per i Paolo Sorrentino. Isabella Ferrari che fa l'insegnante di teatro dice all'altro, all'altra la ragazza che si chiama Celeste dalla porta che è l'attrice principale del film, sei senza gioia e questo la telecamera non te lo perdona. Secondo me quello schermo che si mette in mezzo fra lo spettatore e la persona che sta facendo il mio lavoro è abbastanza, secondo me non tradisce tanto. Certo. Alla fine un occhio attento, una persona che ha un minimo di sensibilità, di intelligenza emotiva lo capisce poi com'è la persona dall'altra parte dello schermo. e quindi tornando a quello che mi ha tolto sicuramente il fatto di essere e di dover essere in mezzo alle persone un po' quello che si aspettano gli altri che tu sia, no? Certo, esattamente. Soprattutto per chi conduce dei programmi televisivi, secondo me più che un attore, è a volte un po' limitante per la tua vita privata, per la tua vita in generale. Quindi è per questo che torniamo al fatto che io sono una persona poco mondana, perché siccome io non riesco a risparmiarmi, io sono molto grata al pubblico e quindi se ci sono le persone intorno a me, se sono in uno spazio dove ci sono delle persone che mi riconoscono, io mi do a tantissimo. E questa cosa mi toglie energia, è un'energia buonissima, però me la toglie, no? Quindi mi stanca molto. E allora è per quello che io cerco di evitare i posti troppo affollati, perché se vado in un posto molto affollato non sono quella che si mette in disparte e tiene il muso. Cerco di essere conviviale con tutti e sorridente con tutti. Un po' come era una grande figura che ti hanno detto spesso ti somiglia, no? Sono un altro come una fisiognomica che era Monica Vitti. Che diceva una cosa bella, diceva che nella vita io ho fatto meno di tutti i lussi, potevo appunto dormire in saccappello, però mi sono concesso un solo lusso, quella di rifiutare delle cose. Quante volte hai detto di no tu in questi anni? Tante. Tante. Quante volte te ne sei pentita? Non lo so, devo dirti la verità, forse mai. Forse mai? Forse mai. Ma perché poi una volta hai detto no, lascia andare la cosa? No, perché vivo di sensazioni e la mia pancia è importante, quindi… Cos'è che ti fa scappare come istinto dalle cose? Sento qualcosa che non va così a pelle, istintivamente, quindi questa cosa mi fa scappare. non mi sono pentita del no, però magari mi sono pentita di aver fatto qualcosa, al contrario, cioè magari la mia pancia non mi ha avvertito e quindi ho fatto delle cose e poi non mi sono piaciute, quindi diciamo al contrario mi è successo. Fare una carriera così lunga, diceva Carlo Verdona una cosa bella, non è tanto il successo di un istante a dare la cifra di quello che sei, ma durare 10, 20, 30, 40 anni, cioè questa è l'idea che tu abbia attraversato il tempo in cui non c'erano i telefonini e il tempo in cui c'erano 5 canali tv e le piattaforme televisive neanche ce le potevamo sognare, eccetera, e sei arrivata fino ad oggi, miracolata per il tuo aspetto, che ti riporta i tuoi 18 anni, però di fatto hai attraversato tre decenni. Tanto, sì. È tantissimo. Grazie per il complimento, l'ho colto comunque. Il complimento sì, certo, nel senso che sei una ragazzina, però… Ti ringrazio, però è un po' strano anche per me quando ci penso, perché poi lo spirito della ragazzina io ce l'ho tuttora, quindi a volte quando penso che sono più di 30 anni che faccio tv mi spavento. Grande contraddizione tua, tu hai detto sempre io mi sentivo vecchia già da quando avevo 20 anni eppure dentro questa vecchia, tra cento virgolette, pulsa una ragazzina. Sì. Tutte e due le cose. Tutte e due le cose, vero. E ce le ho molto ben fortificate dentro di me questi due aspetti, ancora adesso. Non è bellissimo essere contraddittori? È bellissimo, però a volte ti mette in una situazione di confusione anche nei confronti degli altri, quindi non è sempre facile. No, certo, certo. Perché io ho una parte leggerissima di me e una parte pesantissima, pesantissima. Com'è questa parte pesantissima? Come si espleta? Come si vede? Con i miei figli sono abbastanza severa, pesante. Cioè le mie amiche ogni tanto mi dicono molla, molla, perché io sono molto, forse proprio perché ti ho spiegato appunto che i miei genitori sono stati molto severi con me, lo sono anch'io con loro. Li controlli? Li controllo. Sono abbastanza intransigente, dovrei lasciarli un po' più liberi, anche perché poi più tu sei intransigente più loro tentano di scappare per fare quello che non gli permetti di fare. E' la logica del proibizionismo, certo. Non si capisce perché io, che dovrei essere una persona abbastanza intelligente, dovrei cercare di capire questa cosa che faccio in continuazione. Però tu sei cresciuta senza social network e questo, secondo me, fa una differenza enorme. Nel senso che non c'era idea, noi avevamo, quando eravamo fortunatissimi, delle telecamere grandi come questo divano e più in generale avevamo le polaroid oppure le foto da stampare. Ed è questo il problema, capito? Certo. Perché questo mezzo meraviglioso, comunque il telefono, i social media in generale possono essere davvero divertenti e davvero innovativi per tante cose. Ma poi in realtà io con i miei figli sono invece intransigente per esempio su questo. Ormai il mio grande no, ovviamente fa la sua vita, ma la mia piccola ai 13 anni e i social media, rompo le scatole su tutto il telefono, non si deve guardare più di tanto durante il giorno, a tavola, mai. Quindi va bene, non sono pesante solo sulle cose di famiglia, sono pesante su degli aspetti della vita che sono anche dei miei pensieri emotivi, delle situazioni che mi capitano. Ma quello che si percepisce di me è quasi sempre la leggerezza, quindi io sono felice di questo perché per me la leggerezza è un valore aggiunto. Però una volta hai detto che certe letture superficiali, certe letture manichee o se vuoi anche pigre, quando ti descrivevano come leggera volevano dire superficiale, stupida, che non c'era sostanza eccetera. E quindi questa parola leggerezza che in sé per sé è meravigliosa con te veniva usata con un tono di diciamo... L'aspetto fisico è un aspetto determinante in questa vicenda della leggerezza. Per dirla con Italo Calvino ancora brutta, zoppe, collo torto. Come quando ero piccola che mi arrampicavo sugli alberi vestita da maschio con i capelli rossi, probabilmente la leggerezza non... Perché i capelli rossi? Perché io sono un po' biondo veneziano, io non sono completamente biondo, faccio i colpi di sole, sono un po' aranciata. Un po' aranciata. E quindi certo. Secondo me l'aspetto fisico è determinante in questo binomio di leggerezza e fisicità prorompente. Devo dire che adesso poi con il passare degli anni, facendo questo lavoro da un sacco di tempo, questa cosa non succede più. Insomma forse quando... L'inizio, certo. L'inizio di più. Adesso meno, perché poi quando uno ha la propria carriera non è che... Insomma questa cosa un po' passa. Ma soprattutto all'inizio sì, era evidente che una persona fisicamente diciamo dotata o comunque fortunata non può essere di sostanza, ecco. Lo noto in qualche intervista, la noto ancora questa cosa. Qualche tipo di discriminazione, mettiamola così, che poi non è una vera discriminazione. Hai detto, anche se facciamo fatica a crederti, però ti vogliamo credere, che hai avuto anche tantissime insicurezze, no? Sì, ma quelle ce le ho ancora. Quelle ce ne hai ancora. Certo, ma sono bellissime le insicurezze. Bisogna... Bello, bello. Dimmi perché sono bellissime le insicurezze. Perché ti rimettono... perché ti fanno stare con i piedi per terra, perché... Cioè sono bellissime nella misura in cui non diventano un problema grosso e soprattutto le insicurezze sono problematiche quando un ragazzo è adolescente. Però sono anche quelle che ti formano, sono quelle che ti fanno ragionare, che ti fanno diventare una persona così, come diceva, un po' più pesante di sostanza, perché sono quelle che ti permettono poi di capire quali sono i tuoi limiti, quali sono le tue difficoltà. E se una persona non ha insicurezze, come può pensare di avere un sogno, per esempio? È vero. E sognare è la cosa più importante. Tu continui a farlo. Continuo a farlo, continuo ad avere insicurezze e le insicurezze mi permettono di sognare meglio per poter raggiungere degli obiettivi. Non ti piacerebbe mai avere la testa di oggi riportata ai tempi meravigliosi di libertà in cui non c'era mezza responsabilità e magari come i personaggi di Ammanniti io non ho paura, tu avevi lo stesso scenario durante l'estate, il grano a perdita d'occhio, i campi bruciati. La testa di oggi sulla ragazza che sei stata. Sì, ogni tanto penso che sarebbe stupendo poter avere quella leggerezza di poter fare le cose senza pensieri, senza giudizio, di non avere le responsabilità, ma dall'altra parte la responsabilità e la saggezza e la maturità ti rendono anche più affascinante. Quindi non lo so, non saprei dirti, non è una cosa a cui penso, devo dirti la verità. Ogni tanto ritorno con la testa e con i pensieri a quella che ero, alla ragazzina di casa al Palocco che andava a fare i compiti al mare a Ostia e faceva il bagno a gennaio nell'acqua gelata perché sono abituata così, ma poi sono talmente felice di quello che sto facendo adesso e di quello che ho creato, al di là della tv io, delle imprese e lavorano con me tanti ragazzi giovanissimi. La creatività che mettiamo nelle nostre riunioni, nelle nostre giornate di lavoro mi rende felice e lì c'è tanta responsabilità perché ho delle persone che lavorano per me, cosa che in tv non mi è mai successa, quindi ho scoperto anche questo aspetto da imprenditrice diverso da quello di presentare dei programmi che mi dà delle responsabilità perché io so che delle persone lavorano per me e sono anche abbastanza, quindi ti mette nella posizione di dire dobbiamo fare bene, dobbiamo andare bene anche per loro. L'hai detto a un certo punto che ti eri stancata di interpretare in qualche modo copioni scritti da altri e hai deciso di metterti nella fase di scrittura perché ti rendeva più felice. Sì, mi rendeva più felice, ero stufa forse di fare determinati tipi di programmi che magari non sentivo più nelle mie corde e quindi mi sono presa un po' di tempo per me, durante questo tempo per me ho scritto un paio di programmi, uno l'ho fatto, altri verranno, chissà, però sì, avevo l'esigenza di fare qualcosa di mio. Se vede un grande lusso è un grande rischio perché non c'è luogo come la televisione in cui se tu con tutte le mostrine sulla giacca e i premi messi da parte però ti allontani e sparisci il rischio dell'oblio fortissimo, no? Sì, sì, l'ho fatto però molto consapevole del fatto che avessi un piano B che era diventato un piano B consistente. E a fare l'imprenditrice. Sì, nel senso che probabilmente non ci sarei mai riuscita, quindi te lo dico con molta sincerità, non sarei mai riuscita a lasciare la TV in quel momento se non avessi avuto dei feedback positivi e delle soddisfazioni dall'attività imprenditoriale. Perché lì è un po' complicato, lo capisco, perché sei abituato a stare in TV da quando sei piccolo, comunque hai una vita fortunata, aggiata e tutto, mollarla così e avere la paura di non tornare più è… sì, per una persona che fa il mio lavoro è molto così difficile, ma avendo, capito, le spalle coperte da quest'altra cosa che mi rendeva molto contenta, che mi dava la possibilità di creare di più e anche economicamente mi metteva in una situazione di poter far stare la mia famiglia bene, perché quella è la mia priorità, anche perché il mio lavoro io non lo posso lasciare ai miei figli, al di là del fatto che mia voglia fare l'attrice, ma non lo sappiamo se ci riuscirà sì o no, e invece le mie attività parallele sì, quindi volevo creare qualcosa anche da poter lasciare a loro. Quando ho avuto la certezza che queste attività stavano andando bene, allora ho detto ok, posso prendermi un momento di pausa, quindi diciamo me la sono giocata bene, cioè è stato un momento giusto per me. Ma tu tra vent'anni ti ci vedi in tv? Non lo so. Non lo sai? No, forse no. Magari scriverei dei programmi bellissimi per altri, no? Sì, io sono talmente creativa che scrivo e invento idee per chiunque, ed è una cosa che è anche imbarazzante per me, perché io incontro le persone, dopo poco tempo che parlo con quelle persone mi vengono in mente delle cose da poter creare insieme, dei lavori e delle esperienze da poter vivere. Ed è talmente tanto tumultuoso tutto questo. Conta che io adesso mi sto forzando a parlare piano. Perché parleresti velocissimo. Perché io parlo molto più veloce di quello che sto facendo. Parlo. E i miei pensieri vanno ancora più veloci delle mie parole, ed è a volte anche un problema per me, perché tutte queste idee che ho in testa non riesco poi a concretizzarle. E anche con le persone che lavorano con me sulle mie attività imprenditoriali, ogni tanto mi dicono, Alessia, anche perché io ho già capito tutto quello che mi vogliono dire molto prima che me lo vogliono dire. Quindi diventa complicato però ogni tanto, diventa complicato starmi vicino in generale. Tu sottoscriveresti la frase di Raffaella Carrà, la vita è una partita a carte, a me piace avere il mazzo in mano. Assolutamente sì. Non si fa in qualche modo se almeno tu non dipingi una parte del quadro? Non si fa. Non si fa? No. Non si fa? Non è possibile. Però mi piace la condivisione della partita, cioè nel senso che voglio essere probabilmente il giocoliero, cioè quella che tiene in mano il mazzo di carte, però poi in realtà il gioco non si può fare se non si è in tanti e non si è un gruppo, per cui per me il gruppo è fondamentale. È vero che sei… Sono l'animatrice del villaggio, mettiamola così. Esatto, come Fiorello in Costa Lavori dell'81. Un giorno ti sei portato un cartonato di Fiorello in… Mi hanno cazziato da morire. Mi hanno cazziato da morire. Sì. Beh, perché andava in onda contro di me. Io facevo una puntata del grande fratello e lui cominciava il grande spettacolo dopo il weekend ed era la prima puntata sulla Rai, noi su Canale 5. E io ho detto dentro di me, ma chi è che ci guarda stasera? Avevamo dei buonissimi risultati, ma Fiorello è Fiorello, è imbattibile, non si può fare nulla. Tra l'altro io lo conosco da sempre perché tra l'altro Fiorello è stato anche l'animatore di un villaggio dove sono andata io in vacanza quando ero piccola, anche se non abbiamo tutti questi anni di differenza, però sai quando hai 15-16 anni, vai in un villaggio e lui ne aveva 22. Era molto bravo. Ed era bravissimo. Quindi ho detto, ma chi ci guarda stasera? Nessuno. Allora, mi ricordo che qualcuno, mi ricordo ho incontrato qualcuno che mi fece un'intervista e mi diede questo cartonato proprio, forse Ippoliti, qualcuno che venne sotto casa mia con questo cartonato di Fiorello, per prendermi in giro ovviamente, Gianni Politi fu, e per prendermi in giro. Io ho detto, ma me lo regali per favore? E non ho detto niente a nessuno e ho nascosto il cartonato di Rosario nella doccia del mio camerino, perché ho detto, se mi becca qualcuno della produzione, sicuro me lo tolgo, non ho detto niente a nessuno, neanche al capoprogetto, nessuno, e c'era un tunnel prima di entrare proprio sul palco del grande fratello e mi sono presentata al, fai conto, un secondo prima di cominciare la trasmissione, con lui, sotto un braccio così, benvenuti, benvenuti al grande fratello, così, io vedevo le facce di tutta la produzione, che mi guardavano così, e poi l'ho messo seduto in mezzo al pubblico, perché io ho pensato, allora non ci vede nessuno, ma se dovessero sbagliare e vedo uno fiorello che sembrava che stesse lì a guardare la trasmissione, forse si fermano sotto i nomi, quindi sì, lo fa. No, però è bello l'ho detto perché ti racconta come alla fine tu hai messo uno schermo di autorionia, di leggerezza, di divertimento e di allegria in un mondo che è sovente inclina a prendersi sul serio. Sì. Ti racconto una cosa personale, io a un certo punto, non era proprio il mio mestiere, però vengo preso per fare l'autore di un programma della Carrà che doveva andare benissimo, che non andò benissimo e questo programma durava tre mesi e io mi ricordo benissimo le facce di capostruttura della TV di Stato e queste riunioni in cui non era difficile percepire la nevrosi, quindi ho pensato, ma la TV è un inferno, farla, perché comunque alla fine non c'è niente di decubretiniano in questo, cioè tu non puoi partecipare, devi vincere, devi vincere, devi aspettare le 10.01. È la battaglia dell'ascolto. È la battaglia dell'ascolto. È la battaglia dell'ascolto che ti mette in una situazione di ansia totale, quindi è vero. E anche se tu hai questo dono della leggerezza, saranno gli altri a farti percepire il nervosismo, perché muove tante teste, tante umanità, tante ambizioni. E lì subentra la mia parte pesante, perché poi in realtà è vero, leggerezza e tutto, però poi quando ci sono delle dinamiche di nervosismo divento nervosa anche io, è normale, io assorbo tanto le cose che succedono intorno a me, io leggo anche il labbiale, E' purio ogni tanto, ti arrabbi? Ah sì, eh? Sì, sì, mi arrabbio. Mi arrabbio quando vedo delle ingiustizie o delle cose che non hanno senso, delle arrabbiature per delle cose che non sono… come si arrabbiano gli altri quando faccio qualcosa di sbagliato io, quindi non è che nego agli altri l'arrabbiatura. Sì, poi tra l'altro le persone che sono intorno a me, io penso di essermi arrabbiata tantissimo, mi dicono guarda che eri gentilissima, quindi forse non è neanche un'incazzatura così grande, però io ho anche… ho i sensi molto spiccati, quindi un udito molto spiccato, leggo anche il labbiale delle persone, quindi se c'è qualcosa che non va, io l'avverto molto facilmente perché anche da lontano recepisco tutto, capito? Io sento che in questa cosa che hai detto prima sul sapere già che cosa gli altri stanno per chiedere o che cosa pensano 30 secondi prima, 20, 10, c'è una grande idea di programma, non so ancora quale, ma c'è un'idea di programma… Perché ce l'hai avuta tu l'idea? No, l'idea non ce l'ho avuta, ma insomma l'idea… Però secondo me da quel telefono lì, con tutti quei messaggi, possiamo… Quella è una storia, certo. Possiamo ricavarci un podcast, una storia, sì, sì. Ma certo, scusami, quando Radio Radicale a un certo punto lasciò i microfoni aperti e chiamavano questi, ancora col gettone, telefonavano e alcuni insultavano, alcuni leggevano poesie, altri tiravano giù dei moccoli. Era un programma, infatti diventò un libro, cioè in cui c'era questa specie di flusso continuo di pensieri, perché poi a te non piace stare nelle serate mondane e preferisci 10 amici a casa, eccetera, però c'è un mondo di gente molto sola anche, non proprio esattamente aiutata, secondo me, dall'idea che accendi una piattaforma e ti ritrovi 500 film e non esci più, capito? Certo, quello ti chiude, beh, sì, ti dà tutto quello che vuoi in quel momento, di quello di cui hai bisogno, per cui non hai la necessità di uscire e socializzare. Tu che sei una grande fruitrice di serie, l'hai trovata una serie migliore di Breaking Bad dopo averla cercata per anni? Beh, sì, adesso mi devo fare la lista, 10 secondi in testa, però io sono… Big Little Lies, è stata una serie che ho amato molto, no, sto pensando ad una serie proprio da superare Breaking Bad, recente… È molto difficile la superare Breaking Bad, sì, oggettivamente lo è. Nei prossimi minuti mi verrai in mezzo. Mi hai detto che non ti interessa tanto il rimpianto, anche perché hai questa memoria selettiva per cui alcune cose le elimini, invece a chi devi dire grazie? Chi sono stati i mentori veramente importanti? Non se ne possono scegliere troppi, al di là dei tuoi che ti hanno sostenuto? Chi è stato veramente importante? Nel mondo del lavoro o in generale? No, nel lavoro, parlo del lavoro. A Fiorello devo dire grazie perché ai tempi del Festival Bar mi ha insegnato, cosa volesse dire, animare il pubblico prima di andare in onda, che è una cosa che mi porto dietro ancora adesso. C'è una figura tecnica che si chiama scalda pubblico, no? Quelli che agitano il pubblico. Noi l'abbiamo fatto sul serio, perché lui avendo fatto animazione nei villaggi mi ha detto Alessia noi dobbiamo andare lì dal pomeriggio, quando tutti stanno sotto il sole e morire dal caldo nelle piazze, non dobbiamo arrivare belli freschi la sera, stare con loro, animarli. E noi abbiamo fatto una finale in piazza del plebiscito che c'erano 300.000 persone, che è una roba impensabile. E questa cosa, per esempio, che lui mi ha insegnato io me la porto dietro ancora adesso, quindi sicuramente ogni volta che faccio una trasmissione arrivo molto tempo prima per cercare di fare amicizia, di conoscere le persone, di capire se c'è qualcuno che mi può aiutare anche quando sono in onda. Perché a me piace il contatto col pubblico, proprio per quella cosa che ti raccontavo del telefono. Io ho fatto amicizia con delle persone su quel telefono, perché questa connessione mi aiuta a fare meglio la mia serata, la mia puntata. E questo me l'ha insegnato Rosario, me l'ha insegnato Fiorello, perché lui lo faceva sempre e lo facevamo insieme. Noi stavamo 4-5 ore a fare le prove con i cantanti che arrivavano, a scaldare il pubblico, a tirare su delle persone del pubblico, a farle arrivare sul palco. Lo faccio tuttora, quindi a lui devo dire grazie. Devo dire grazie a Cinzia Malvini, che è una giornalista che lavorava a Telemonte Carlo, diciamo prima di continuare a fare il suo lavoro, ma anche quando ero adolescente, avendo finito gli studi però ero ancora adolescente, a 16 anni e mezzo, 17, mi cominciò a dire di fare dei provini, delle cose così. E poi dopo, tra l'altro, sono stata presa a Telemonte Carlo per il programma Occhio al Dettaglio, come mi hai ricordato tu, sempre in seguito ad una sua propensione, era amica di mamma, mi diceva ma adesso deve fare i provini, deve andare, deve andare, quindi così mi viene in mente il suo nome adesso, perché è stata una persona che mi ha spronato molto. E poi devo dire grazie ai miei genitori che non mi hanno mai bloccato, ma sto pensando ad un'altra figura che mi ha insegnato magari tanto nel mio lavoro, proprio perché mi ha chiesto del mio lavoro. Sai poi, io ho fatto programmi anche molto da sola, cioè io ho condotto tante cose anche da sola, quindi io i grazi li vorrei dire alle persone che hanno lavorato con me, perché sono quelle da cui poi ho imparato tante cose, non sono una persona che credo sia mai stata spinta da qualcuno. Però era un agente che potrebbe stare in libri di filosofia, che non in molti lo sanno, però Beppe Caschetto è... Lo sai che mi ero dimenticata e invece hai ragione, perché il mio primo agente è stato proprio lui. Io ero proprio piccola quando Caschetto, quando Beppe mi ha chiesto un appuntamento. diretti, è un uomo molto simpatico. Un uomo molto simpatico, se lo riesci a vedere, perché è come Charlie di Charlie's Angels. Assolutamente. Tu l'hai mai visto Charlie? No. È vero, è invisibile. Però questa cosa è bellissima, è stupenda. È bellissima. E lui è invisibile. Beh, lui è proprio, se mi passi l'impropria metafora, è la Marcuzzi uomo. Cioè lui non vuole uscire, non vuole vedere nessuno. No, lui è peggio di me. Lui è peggio di più patologico. In confronto io sono l'animatore delle feste, non lo so, del... Però quello che vuole dire è che è un uomo acuto. Del 10-10 in confronto a Inbizza, capito? No, no. Beppe, hai ragione. Io devo dire grazie a Beppe, perché tra l'altro io ho cominciato la mia carriera quando lui veramente non aveva... Anche lui forse stava, non ti dico cominciando, ma quasi, perché aveva pochissimi personaggi nella sua agenzia. Forse aveva solo Alba Parietti. E mi diede un bigliettino da visita. Io stavo conducendo il gioco dell'Oca, Giuseppe Sabani conduceva, io e Paola Saluzzi facevamo le co-conduttrici. E lui portò Alba Parietti come ospite e mi diede un bigliettino da visita. Vengo a trovarmi a Bologna perché secondo me noi dobbiamo fare una bella chiacchiera. Sono andata a Bologna con mio padre perché avevo paura, che ne so, sai quelle cose? Dico ma non lo conosco, chissà che succede, non avevo mai avuto a che fare con gli agenti televisivi, capito? E quella è stata un po' anche forse la mia fortuna, sì, perché ho incontrato una persona per bene, molto intelligente, che ha saputo anche dosarmi. Diciamo che non faceva molta fatica perché quando lui mi diceva non ci deve far vedere in troppi posti, non deve andare. Poi mi portava a nozze perché io non ci volevo neanche andare di mio e abbiamo fatto un percorso insieme, anzi è strano che non te l'abbia detto forse per primo come nome perché abbiamo fatto insieme un percorso importante e lui mi ha fatto fare il calendario nuda. È stato lui? È stato lui? Sì. Quella è stata una mossa geniale di Beppe perché io, che ero maschiaccia, che facevo un programma per ragazzi Colpo di Fulmine, perché il programma che mi ha dato il grande successo poi invece è stato in Mediaset appunto Colpo di Fulmine, che era seguitissimo dei ragazzi che tornavano dall'università o da scuola perché era quell'orario strategico delle due e mezza e adesso non c'è più un programma così. No, beh, c'è Uomini e Donni di Maria, insomma ci sono dei programmi che ti fanno, capito, ti fanno tornare a casa e ti fanno guardare la tv, ma in quel momento è stato proprio il programma del momento, chiamiamolo così. lui fece quest'operazione con il direttore di Max, dicendo ma questa ragazza che viene vista da milioni di spettatori, che corre per le strade con le sue gambe storte, che va in giro a creare il colpo di fulmine fra i ragazzi, ma potrebbe essere un'operazione fantastica fare delle foto sexy con lei e vedere che succede. Mi diedero una copertina prima del calendario e questa copertina fece il botto. E da lì infatti poi il direttore di Max mi chiese di fare il calendario, ma per me fu una conquista pazzesca, primo perché, come hai ricordato tu, mio padre non aveva questo tabù perché sai della figlia che si spoglia, cioè noi la nostra libertà a casa ce l'avevamo abbastanza, non c'è mai stata questa criticità del stare completamente coperti a casa. Cioè non c'erano pruderie di nessun genere. No, abbiamo sempre avuto un rapporto con la nudità abbastanza bello, libero, così. E poi perché io che non ero mai stata così corteggiata, che non avevo mai capito davvero la mia fisicità, non ero mai uscita davvero così tanto, mi piaceva molto stare con le mie amiche a casa al Palocco e tutto, finalmente, qualcuno che mi mettesse su una copertina e su un calendario come una bomba sexy, beh, io ero pazza di gioia. Cioè ero piena di corteggiatori, ero diventata il sex symbol d'Italia, ce l'avevo fatta. Cioè da lì è stato impossibile non fare i conti con l'idea della bellezza, no? Che cosa è stata per te la bellezza? Quello che io volevo, cioè quello che volevo da quando ero piccola, no, però ad un certo punto io volevo essere considerata anche bella, perché da adolescente non lo sono mai stata considerata, non sono mai stata considerata così. Questo devo dire che vale tutto l'intervista, non lo dice mai nessuno, invece è giusto. No dai, qualcuno lo dice, che quando ero piccola ero la bruttina, il brutto no troppo e poi sono sbocciante. No, però qualcuno che dica finalmente che bello essere, diciamo, nella testa degli altri, nell'immaginario degli altri. Io sono felicissima quando me lo dicono ancora adesso. Cioè non la trovo una volgarità, non la trovo una cosa, una forma di maleducazione. Io sono d'accordo, è volgare, se tu pensi che sia volgare lo diventa. E' volgare il contrario. E' scusa. E' volgare il contrario, esattamente. C'è stata una cosa che a un certo punto ha detto Katrine Deneuve, a proposito del Me Too, è stata molto criticata per quello che ha detto e probabilmente l'ha detto nel momento sbagliato, appena uscito il Me Too ovviamente ogni frase sbagliata veniva presa con un'eccezione negativa, un'eccezione proprio che secondo me lei non voleva intendere in quel momento. A un certo punto lei ha detto ridateci la libertà di essere corteggiate e ovviamente fermo restando che è una molestia, è una molestia e va condannata. Quello che può succedere è che a volte ci sono dei confini o delle linee sottili per cui non si ha più la possibilità di annusarsi, di corteggiarsi e di trovare un'affinità con l'altra persona perché a volte c'è troppa paura. David Prost, grande conduttore televisione americano, dice che la televisione è quel posto in cui tu fai entrare nel salotto di casa tua a gente che non ospiteresti mai nella vita reale, che permetti a chiunque di entrare nella tua vita per un'ora, due ore, tre ero al giorno. Tu l'hai capito dopo trent'anni che cos'è la tv? Io penso che sia il contrario. Io nel mio caso penso che quelle persone che sono dall'altra parte e che secondo Frost non potrebbero mai stare a casa mia, potrebbero stare tutte a casa mia. Tu hai detto che apri la porta, entrano tutti, giochiamo a burraco, io faccio l'animatrice, il mazzo lo tengo io, però giocano tutte con me. Tu come hai fatto a venire a patti, ammesso che tu sia mai venuto a patti con qualcuno o con qualcosa nella tua vita, a gestire il successo? Con la gentilezza e il garbo, credo, perché in questo mondo che sta diventando sempre meno gentile, secondo me la gestione del successo si ha più facilmente se sei una persona garbata. Non so bene come spiegartelo perché è un po' difficile come… No, invece ti hai spiegato benissimo. Una volta avevi citato una frase di quello che hai definito il tuo eroe, un grande commediografo e regista che si chiama Kenneth Branagh. Sei gentile e abbi coraggio. Ah vedi, te la ricordi molto bene. Sei gentile e abbi coraggio. E abbi coraggio perché ti darà molto più forza di questo, credi, no? Sì, il successo secondo me con la gentilezza, col garbo e con il coraggio, in questo caso me l'hai ricordato tu, lo gestisci più facilmente, anche stando con i piedi molto per terra e avere la percezione di quello che succede intorno a te, perché è un attimo che il successo ti porta lontano, ti porta via e ti porta con i piedi per aria. È bello fare le montagne russe. A me piace stare con i piedi per aria, arrampicarmi da tutte le parti, però poi dopo ad un certo punto devi ritornare nella realtà, altrimenti non lo gestisci facilmente. Scusa, te l'ho chiesto della TV, te lo chiedo di una cosa molto più importante. Tu che cosa hai capito dell'amore invece? Silenzio? Allora, io sono molto romantica, al contrario di quello che si possa pensare, perché ho fatto due figli con due uomini diversi, mi sono sposata, mi sono separata e quindi si ha di me la percezione di una persona un po' frivola, no? In realtà io sono sempre alla ricerca dell'amore eterno. Ho due genitori che si sono messi insieme, mia mamma aveva 16 anni e mio padre è 19. Io ci credo tantissimo, lo so che ormai sono più grande e quindi vabbè, ci dovevo credere prima. Io credo molto nell'amore e nella condivisione e nella passione e nei sorrisi e nella gioia. Quando questa gioia non c'è più, per me l'amore non c'è, quindi ho una visione un po' disincantata, molto romantica, ma la mantengo, non cambia, nonostante le vicissitudini della vita. A Francesca Fagnani che ti aveva invitato a Belbo e tu hai detto no. Perché le hai detto no? Perché siamo diventate molto amiche nel tempo e quindi le ho detto non vengo perché mi devo proteggere da me stessa. In che senso di proteggere da me stessa? Ti racconterai tutto e di più, perché tendo a raccontare tante cose della mia vita privata, quindi magari avrei fatto dei danni, non lo so. Uno si deve tenere dei segreti, delle cose per sé. Ma il problema è il proprio pudore o quanto si possono offendere gli altri? Forse un mix di tutte e due, ma quando entro in confidenza con una persona poi tendo a raccontare un po' tutto di me e quindi adesso sto per uscire da quella porta. Dicono di te è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e Tender Stories. Io sono Malcom Pagani. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. Le registrazioni in presa diretta sono di Lucrezia Marcelli. Il producer è Alex Peverengo.